46 violazioni in materia di circolazione stradale, questo quanto verificato dagli uomini della sezione volanti della Polizia di Stato di Caltanissetta nella settimana che si è appena conclusa. Tra questi controlli effettuati durante i servizi previsti per il territorio cittadino, 13 conducenti hanno ricevuto una sanzione perché non avevano fatto la revisione del mezzo, 6 invece perché utilizzavano lo smartphone durante la guida e 4 perché non avevano assicurato il mezzo, 8 invece guidavano con la patente scaduta e 15 hanno ricevuto ulteriori altre sanzioni. Ma proprio sulla validità del documento necessario per poter condurre un mezzo, ovvero la patente, in tutti i casi i conducenti pensavano di poter ancora usufruire dello slittamento dei termini previsto durante la fase emergenziale da pandemia ed invece lo scorso 31 marzo è cessata la legislazione di emergenza ed è stata disposta l'ultima proroga dei termini prevista per il 29 giugno 2022, quindi dal 30 giugno in poi ogni proroga è terminata e per tornare a condurre il proprio mezzo bisogna necessariamente effettuare il rinnovo della patente, così in caso di controllo su strada da parte degli organi di polizia farà fede solo e soltanto la data di scadenza riportata sul documento, ovvero sulla patente.